Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di approfondimento di Assalto Imperiale, modalità di gioco scontro diretto, proposto da ragazzi da Ludic Incoming. All'interno di questo video continuiamo la trattazione della Wave 5, dopo avervi presentato la Controbarte Scam e Imperiale, torniamo alla nostra amata Fazione Ribelle. Oggi in questo video vi presento il primo dei due blister singoli dedicati alla Fazione Ribelle e nel prossimo guido vi parlerà degli Eco Base. A me spetta l'arduo compio di descrivervi Leia, un personaggio che di certo non ha bisogno di presentazioni. È un personaggio storico della vecchia saga di Star Wars, la sorella gemella di Luke Skywalker e uno degli eroi più importanti della Resistenza. Leia viene presentata all'interno di questo blister nella sua duplice componente Campagna e Skirmish. Noi ovviamente ne approfondiremo e ne tratteremo nella versione Skirmish, oggetto di questi nostri video di approfondimento. Iniziamo mostrandovi il personaggio nella sua unica versione, essendo appunto un personaggio unico con nome Elite. Lei Organa si presenta per 8 punti come un personaggio con tratto leader e spia. È dotata di un para-impulso automatico quando difende, ha 3 bellissimi surge, ovvero impulsi, recupera 2, più 2 danni e più 3 precisione, ha abilità ottime che vedremo dopo ed ha statistiche molto carine. 8 ferite, velocità 5, difesa col bianco, alla quale poi aggiunge un para-impulsi e un attacco a distanza blu-giallo-giallo, che le permette sostanzialmente di fare tanti critici in quanto abbiamo ben due gialli, ma soprattutto fare anche grandi gittate. La vera forza di Leia già qui si inizia a percepire, abbiamo ottime statistiche, un costo basso, ottimi tratti e bellissimi surge. Ma ciò che rende veramente Leia fantastica e la rende una delle staples, ovvero una delle uscite più importanti per tutta la fazione ribelle, è sicuramente le sue due abilità passive. Le sue due abilità, scusatemi, di appartenenza di questo personaggio. Sono entrambe attive, in quanto entrambe devono essere attivate tramite specifici effetti. La prima, Autorità in battaglia, è un'azione a tutti gli effetti che dice effettua un attacco, scegli una miniatura amica entro tre caselle e anche lei interrompe per effettuare un attacco sul tuo stesso bersaglio. Che significa? Significa che invece di fare l'attacco normale ranged, voi farete sempre Autorità in battaglia per fare un doppio attacco, quindi un attacco con Leia e un attacco con una miniatura amica entro tre caselle che bersagli lo stesso bersaglio di Leia. È qui la forza vera di questo personaggio che introduce all'interno di questa Wave 5 di Assalto Imperiale il concetto di attacco fuori attivazione. Un qualcosa che avevamo già provato a vedere con le carte comando, con abilità, quale ad esempio l'Ufficiale Elite, ma che mai erano state sfruttate appieno come da Leia. La seconda abilità attiva si chiama Efficienza Militare, si attiva sprecando un surge, o meglio, più che sprecando, è brutto come termine, usiamo il termine spendere invece di sprecare. Spendendo un surge, ovvero un impulso, nel nostro attacco, noi abbiamo la possibilità di scegliere una carta comando dalla nostra pila degli scarti, quindi una carta comando giocata, e rimischiarla dentro il nostro mazzo. Ragazzi, ricicliamo le nostre carte comando giocate. Vi rendete conto della forza di questa abilità? È veramente fortissima. Inoltre, piccola premessa, non essendo un effetto dettato da una parola chiave, questo effetto si risolve a prescindere che noi facciamo danno o meno, ovvero a prescindere che il nostro avversario subisca veramente danno, o che pari tutto con un dodge sostanzialmente. Questo effetto, l'effetto di efficienza militare, si attiverà sempre. Basta spendere un impulso. Pensate a tutte le fortissime carte comando che voi avete giocato finora in quel turno, pensate alla possibilità di poter attaccare con Leia e rimischiarle nel mazzo, per avere possibilità nei prossimi turni di ripescarle. Ok che i turni in Assalto Imperiale sono pochi, una partita schermi, sappiamo che dura 3, di media massimo 4 turni in gioco, ma pensate alla possibilità di potervi riprendere carte fortissime che possono dare un boost alla vostra partita davvero davvero notevole e la possibilità di ripescarle magari alla ripescata successiva, controllando i terminali o attingendo a effetti quali ad esempio la pescata di R2-D2, pianificazione se avete un leader e Leia è un leader, oppure la possibilità di pescare carte in più grazie ad alto comando ribelle, quindi la possibilità di ripescare è sempre fondamentale in questo gioco. Ora, dopo questa presentazione che già di per sé rende davvero fantastico questo personaggio, non vi scordate che costa solo 8 punti. Leia Organa per 8 punti è un buon DPS perché comunque blu, giallo, giallo sono già 3 dadi, se focusata diventano 4 aggiungendo un verde ed ha un impulso che comunque dà più 2 danni. Ha un'ottima gittata, aggiunge precisione quando serve, fa fare un doppio attacco. Io davvero, anche senza la possibilità di rimischiare le carte, io comunque personalmente le avrei messe all'interno delle mie liste, perché comunque è un personaggio che sa veramente far tanto male. Passiamo adesso a vedere che cosa accompagna questa uscita oltre a Leia. Abbiamo, oltre a lei, che già di per sé è veramente un'ottima carta, abbiamo anche uno skirmish upgrade, ovvero una miglioria per lo sconto diretto di tutto rispetto, ovvero in missione diplomatica. È una miglioria che richiede di essere aggiunto, ovvero attaccata ad un personaggio, e questo personaggio può essere solamente un personaggio contratto leader, quindi lo dice nel testo, solo leader. Alla fine della tua attivazione, se non hai effettuato attacchi, puoi scegliere uno dei seguenti effetti di questa carta. Effetto 1. Ottieni due punti in movimento, quindi il personaggio si può muovere di due punti in movimento alla fine della sua attivazione. Molto buona. Applichi più un pari impulso a tutti i risultati di difesa fino alla fine del turno. Se è al centro del fuoco, più un pari impulso può essere risolutivo per salvarsi. Oppure ottieni un punto a vittoria. Quel punticino in più, quel quid in più, che ci permette di arrivare il prima possibile a 40, e vincere, ovvero portare a casa la nostra partita. Non male. Il tutto questo, per un solo punto. Ovviamente è unica, perché non possiamo spammarla sui nostri personaggi, pur leader che siano, ma ci è consentito di averne solamente una in gioco per volta. Su chi è fondamentale questa carta? Ragazzi, pensiamoci attentamente. Questa carta di certo non nasce per Leia. Questa carta di certo non nasce per altri personaggi. all'infuori di uno. Gideon. Gideon Argus. Leader. E quindi perfettamente adatto ad essere equipato con questa carta, ma soprattutto, è fondamentale, perché Gideon è un personaggio di supporto che difficilmente attaccherà. Mentre Leia è un leader che, con la sua abilità, comunque l'autorità in battaglia, effettua di fatto un attacco, e pertanto le condizioni che permettono a in missioni diplomatica di attivarsi non risulterebbero attivate a fine turno, Gideon fa muovere e fa focusare. Non fa attaccare. Non attacca lui. Non sprega azioni per andare contro quello che è il requisito di questa carta. Meglio, sì, Gideon fa attaccare con la carta abbattetelo di Gideon, che dà il comando, ma appunto facendo attaccare, non attaccando lui, comunque il risultato di missioni diplomatica si attiverebbe lo stesso. Pertanto questa carta porta Gideon da 3 a 4 punti, rendendolo un personaggio che per 4 punti tutti i turni ci fa muovere, ci fa focusare e ci fa ottenere un punto vittoria. Perfetto. Se una partita in media dura 3, 4 punti, 4 turni, già abbiamo alla fine di questi 4 turni Gideon che è stato un full support e si è completamente ripagato da solo il suo costo in punti. Avete motivi validi per non giocarlo su Gideon? Io personalmente no. Se riesco a trovare questo punticino, perché magari ho talmente tante attivazioni, ho talmente tanti slot presi, che non riesco a ricavarmi questo punticino per poterlo schierare in missione diplomatica su Gideon, ma se lo dovessi trovare, ragazzi, non esiterei neanche un nanosecondo a equiparla su Gideon e ottenerne ottimi benefici. Quindi, già solamente con la carta schieramento di Leia per la versione Schirmish e con questo Schirmish upgrade, ovvero in missione diplomatica, abbiamo un'espansione di Leia Organa che è davvero, davvero fantastica. Aggiunge non una, ben due carte schieramenta alla nostra fazione ribelle che sono fondamentali. E sono game breaking, ovvero danno bonus e benefit alle nostre liste che ci aumentano indubbiamente la qualità della nostra partita. Purtroppo non possiamo dire lo stesso delle carte comando, altrimenti l'uscita di Leia sarebbe stata perfetta. Le carte che vedremo, adesso le carte comando che accompagnano questa uscita, non sono così risolutive come le sue carte schieramento. Però, comunque, è giusto menzionarle, sono carte che in un futuro potrebbero indubbiamente tornare utili. Iniziamo con la carta comando relativa a Leia. Ce ne è un'altra. All'inizio di un round Leia ottiene il tratto fruitore della forza, ovvero diventa force user e applica più un surge a tutti i suoi attacchi. Ovviamente fino alla fine del turno. Che cosa comporta? Comporta che per 0 punti abbiamo una carta esclusiva di Leia che la fa diventare force user, quindi le permette di beneficiare tutte le carte tipiche dei force user che abbiamo visto finora in questi video di approfondimento, e le aumenta più un surge, ovvero più un impulso, quando attacca. È un incentivo, di fatto, a poter riusare efficienza militare e poter ripescare, ce n'è un'altra, e rimescolarla all'interno del proprio mazzo per magari provare a ripescarla il turno dopo. Oppure, provare a pescare altre carte che si sono giocate. Diciamo che la possibilità di usare tutti i turni ce n'è un'altra su Leia aumentando a 3 i suoi tratti e dandole tutti i turni un impulso magari per rimischiarle ce n'è un'altra e ripescarla il turno dopo sicuramente è un incentivo che non è sbagliato. È un'idea molto carina, però, come dicevo appunto prima, poco realizzabile al momento che comunque la nostra pescata è limitata rispetto al pool di carte e comando, ma soprattutto al numero di turni che giochiamo. Tenete presente che c'è questa sinergia che è carina, niente di che, per carità, però, comunque è bene saperlo. Carta che, come vi dicevo, personalmente non vale la pena giocare perché comunque non c'è attualmente un tratto force user così risolutivo da volerlo giocare su Leia o comunque sinergico con il suo personaggio. Sono tutte carte buone e tutte carte non buone. O meglio, abbiamo di meglio da poter mettere all'interno dei nostri mazzi comando. La seconda carta che vogliamo presentarvi è una carta che va a trattare il tema force user che è Lo Sento. Utilizzabile solamente dai force user, costo zero anch'essa, offre uno dei seguenti tre effetti. O quando difende la miniatura che ha giocato questa carta ripeto un dato in difesa oppure quando attacca ripeto un dato in attacco oppure quando è la sua attivazione può usare un'azione quindi azione ottene un punto vittoria. Come vedete questa carta nasce apposta per essere giocata dopo che Leia è diventata force user e in quel caso allora ha senso giocare Lo Sento per poter ripetere effettivamente i dati. Ma come vedremo questi effetti di re-roll non sono così risolutivi per Leia perché se abbiamo bisogno di un re-roll utilizzeremo altre sinergie che dopo andremo a presentarvi in attacco. Se abbiamo bisogno di un re-roll in difesa sappiate che comunque il dato bianco sono giochi e dolori pertanto fare affidamento sul dato bianco e sul suo re-roll non è un qualcosa di così tanto consigliabile ma dovete accettare sempre il rischio. Certo un TS al 6 binato ovvero ripetuto è meglio di un TS al 6 normale dove per TS ripeto esprimiamo il concetto di tiro salvezza ovvero un tiro che salvi completamente il risultato del danno e che tenga in vita il personaggio però tenete presente che cercare di rischiare di ottenere il dodge con carte come questa è una strategia che è molto randomica e difficilmente può pagare il consiglio che vi do io personalmente e che vi diamo tutti noi è quello di cercare di ridurre il più possibile la randomicità dei vostri dati la randomicità dei vostri effetti e il modo in cui giocate più tenete controllo la randomicità e quindi la varianza e migliore sarà il risultato che otterrete nelle vostre partite e nelle vostre giocate è vero che il ripetere riduce di fatto la varianza perché noi ripetiamo cercando di ottenere il risultato che vogliamo però non sono carte come queste che ci riducono la varianza ma sono carte che vanno a occupare ingiustificatamente lo slot delle carte comando a disposizione pertanto è bene giocare questa carta se noi vogliamo creare una lista a tema force user e non se vogliamo metterla insieme a Leia Organa cercando di scombare col ce n'è un'altra giocata subito prima che sia chiaro questo discorso la terza e ultima carta presente all'interno del blister di Leia Organa è dietro le linee nemiche tratto spia perché Leia in fin dei conti è anche spia come tratto e dice se durante la nostra attivazione ci troviamo dentro l'area di schieramento del nostro avversario possiamo guardare le sue prime tre carte del mazzo comando e ordinarle come vogliamo carino per poter filtrare la pescata del nostro avversario mettendogli sopra ovviamente gli scarti o comunque carte che non servirebbero a lui nei turni a venire ovvero nei turni in cui lui le andrà effettivamente a pescare lo slot di tre è giusto perché se pensate che la media di carte pescate con il controllo in terminale è due per fazione quindi ha senso ragionare come la carta migliore la mettiamo per terza e quindi rallentiamo a lui la pescata di un turno invece che farla pescare subito dopo e vederla usata contro di noi subito quindi questa cosa è molto carina valutate anche qui voi se per un punto riusci a trovare questo slot subottimale perché comunque non è una carta non è una staple dei nostri mazzi comando ma comunque è una carta che ha un effetto piacevole di controllo all'interno dei nostri mazzi valutate sempre voi bene il caso di giocarlo o meno benissimo questa diciamo dietro le linee nemiche esaurisce quindi la trattazione del contenuto dell'espansione di Leia un'espansione che abbiamo visto dopo alcune carte comando un po' sottotono ma che oggettivamente non ci interessano vista l'estrema qualità del personaggio Leia e dello skirmish upgrade che con lei esce all'interno della sua espansione di fatto non sono quelle carte comando che ci fanno innamorare di questo personaggio un personaggio che ottiene oggettivamente effetti bellissimi all'interno delle nostre liste e che danno una profondità enorme al nostro gioco e alla nostra partita spendiamo due parole adesso su quali sono i punti di forza e i punti di debolezza di questo personaggio indubbiamente l'output di danno elevato che fa Leia facendo un attacco di Leia a tre dadi o quattro dadi se focusata con ottimi impulsi e facendo riattaccare anche un modello amico sullo stesso bersaglio ha un output di danno davvero davvero notevole il secondo beneficio è quello di riciclare quindi rimescolare all'interno del nostro mazzo di carte comando appunto le carte comando giocate che è un benefit non da poco ma davvero davvero fondamentale il terzo benefit è quello di autocurarsi Leia come Luke Skywalker è fra i pochi personaggi che hanno il recovery 2 e questa cosa le rende veramente tanto tosti da buttare giù il quarto e ultimo punto di forza è la lunga gittata Leia menando blu giallo giallo eventualmente verde se focusata e con quel più 3 precisione nell'impulso è un personaggio che spara facilmente a 7 o a 8 rendendolo adattissimo alle mappe a lunga gittata e ottimo per sparare e nascondersi subito di contro abbiamo un personaggio che è fragile 8 punti salute che difende col bianco con un para impulso automatico può essere gioia e dolori gioia perché pariamo bene tra doppio impulso e un difesa di media oppure un bel dodge che ci sta sempre dolori perché comunque un bel biancone con un paro impulso significa che un altro attacco così e lei fa un bel saluto al campo di gioco concedendo ben 8 punti ai nostri avversari quindi diciamo che la fragilità è la sua principale minaccia minaccia che segue la difficoltà nel giocarla perché essendo appunto fragile è un personaggio che deve essere giocato con enorme accuratezza e con enorme attenzione e che richiede enorme attenzione da parte delle sinergie adottabili con lei non è di certo un personaggio che ha senso mettere in una lista di wuki ma è un personaggio che ha senso metterlo in una lista di tiratori e con i quali può veramente trovare tantissime sinergie l'ultimo punto diciamo di debolezza può essere diciamo citato dalle carte comando di certo di bassa qualità che però ripeto ancora una volta non è di certo per quelle carte comando che noi amiamo Leia ma è per gli effetti della sua carta schieramento e del bonus che la accompagna che la scegliamo di giocare Leia introdotta all'interno delle nostre uscite di assalto imperiale ha dato vita ad un archetipo ovvero l'archetipo dei twins dei gemelli la lista che è stata per tantissime wave e per tantissimo tempo una dei capisaldi di forza dei nostri ribelli ovvero la lista gemelli di skywalkers composta come potete immaginare da Leia e Luke Skywalker questa lista ve la presenteremo in un apposito speciale totalmente incentrato su di essa oggi ve la anticipiamo mostrandovi su quali sono le sinergie principali su cui essa si basa facendovi capire dove risiede la sua vera forza ora come potete immaginare il tutto nasce dallo sfruttare la sinergia fra Leia Organa e Luke Skywalker facendo si che Luke spari con la sua attivazione poi passi la palla a Leia Leia spara Leia e fa sparare Luke Skywalker ottenendo ben tre attacchi all'interno del nostro turno se noi prima di attivare Leia abbiamo fatto Sons of Skywalker ovvero figli di Skywalker abbiamo riattivato Luke quindi abbiamo ripristinato Luke Skywalker potendolo riattivare subito dopo Leia Organa quindi abbiamo di fatto attivazione di Luke attivazione di Leia Organa che fa sparare Lei e Leia giochiamo Sons of Skywalker ripristiniamo Luke riattiviamo Leia un'altra volta abbiamo quindi un totale di tre attacchi di Luke e un attacco di Leia questa cosa come potete immaginare da un benefit enorme all'output di danno che siamo in grado di fare in un unico turno e questa sinergia veniva addirittura usata per fronteggiare il Banta dopo che nella World 4 era uscito il Banta che letteralmente aveva infestato i campi di battaglia questa combo permette al Banta di subire tantissimi tantissimi danni rischiando addirittura di essere shottato in un turno e le probabilità di farlo sono davvero alte senza poi scordarci che comunque Luke Skywalker ha l'abilità del reroll che appunto come vi dicevo prima non vale la pena giocare lo sento perché tanto con l'abilità di Luke Skywalker noi siamo in grado di rerollare i dati di chi attacca intorno a lui quindi capite già la forza ora vi mostro qual è ovviamente la carta comando che vale la pena ripescare con l'abilità di Leia che è ovviamente figlio di Skywalker che permette di abilitare il tutto quanto e poter riutilizzare Sonsoske Walker e poter riutilizzare scusami Luke Skywalker pensate adesso alla possibilità di ripescare questa carta al turno dopo è una carta che davvero davvero sposta le partite già utilizzarla una volta sposta le partite pensate la possibilità di utilizzarla più volte in una partita che cosa può fare veramente i disastri per il nostro avversario ora vi vogliamo lasciare con un primissimo archetipo di lista della lista gemelli di Skywalker adatta al contenuto di questa wave ovvero aggiornata la wave 5 quando faremo lo speciale nei prossimi video di approfondimento ovviamente effettueremo un'analisi più approfondita sulla lista gemelli di Skywalker andando a presentare tutte le sue varianti temporali quindi anche quelle relative alle uscite successive che si sono susseguite come ben sappiamo noi in questa estate 2017 siamo arrivati alla wave 9 di assalto imperiale ora noi vi stiamo trattando la wave 5 perché vogliamo progressivamente recuperare tutte le uscite e pertanto vi proponiamo liste man mano arrivate fino al punto di pubblicazione di cui vi stiamo parlando nel video di approfondimento come ho già detto invece supereremo questa barriera e vi presenteremo tutti gli archetipi possibili ad oggi noti della gemelli di Skywalker e di tutte le possibili sinergie con le quali utilizzare le liste a tema Leia ecco la lista che si basa appunto sull'utilizzo di Luke Skywalker Leia soldati elite eco base e poi il classico pacchetto focus ribelle costituito da Gideon e C3PO e alto comando ribelle ho preferito mettere alto comando ribelle per pescare di più e quindi poter utilizzare l'abilità di Leia di ripescare le carte rimescolate nel mazzo invece di mettere una diplomatic mission su quindi in missione diplomatica su Gideon e eventualmente altri upgrade qual è l'esempio equilibrio nella forza sta a voi ovviamente scegliere le possibili sinergie che è possibile ottenere con le liste ribelli quando vedremo il nostro video di approfondimento vi sarà tutto più chiaro e spero ovviamente di potervi dare ulteriori elementi per poter valutare le vostre liste Lei Organa è sicuramente un pack da avere specialmente se siete amanti come me della fazione ribelle in quanto è un personaggio la cui importanza è davvero tanto risolutiva all'interno delle nostre partite e vi consiglio davvero tantissimo di provare a listarci intorno per capire appieno la sua forza come sempre grazie ragazzi per averci visto like e condivisione al nostro canale e appuntamento al prossimo video di approfondimento ciao ragazzi buon gioco ma soprattutto buona visione